Non dimenticherò mai una guida che tantissimi anni fa in un incontro disse, all'epoca andava molto di moda la parola illuminazione ma la si può usare appunto in qualsiasi tipo di gergo spirituale evoluto, quindi è la stessa cosa che si può anche applicare al salto vibrazionale o al cambio di dimensione. E disse qualsiasi cosa pensi di raggiungere con l'illuminazione è esattamente ciò che ti sta impedendo in qualche modo di arrivare là. Non era diretto a me, era in un incontro ampio ma quella frase mi fulminò perché mi resi conto veramente che la chiave è nel processo stesso, è veramente un radicarsi nel processo dell'evoluzione che è senza fine. Tutto è sempre continuamente soggetto alla legge dell'evoluzione, perché dovrebbe essere diverso per noi qui ora? E' per questo che in questi giorni mi arrivano tante domande o comunque condivisioni sul fatto che finalmente arriveranno gli esseri di luce e ci salveranno, finalmente arriverà questa cosa e improvvisamente riceveremo tutti quanti i codici. Ma che cosa pensiamo di ottenere grazie a queste cose? Cosa pensiamo di ottenere la serenità? L'altro giorno parlando con mio fratello che senza sapere nulla degli extraterrestri, ne parleremo dopo di queste energie semplicemente diverse dalla fattezza a cui siamo abituate, mi ha detto una cosa tipo ma se dai finalmente che arrivino così non abbiamo più problemi. E questa cosa mi ha veramente fatto fermare un attimo a riflettere. C'è ancora in modalità diverse, in livelli diversi questa idea che qualcosa che ci verrà dato da qualcun altro sia quello che stiamo cercando. Un po' come la vecchia idea della bacchetta è magica, no? Che risolverà tutti i problemi. Ma come mai dentro di noi non c'è una piena consapevolezza che è nel processo, cioè è nell'integrare questi passaggi che veramente ha un senso questa nostra scelta di essere qui adesso? Da che cosa vogliamo fuggire? Che cosa pensiamo che otterremo? Perché è proprio quello, là dietro ci ha nascosto qualcosa che ci vuole indicare dov'è l'ostacolo per noi adesso. Cosa non vogliamo incontrare? Quali sono quelle ansie o quelle paure o con cos'è che non vogliamo stare? Questo è importantissimo, è da lì che parte per me un certo tipo di autenticità, questa onestà con noi stessi. Questa nuova era tra i tanti doni ci porterà anche il dono proprio della cooperazione, della condivisione, degli spazi più comunitari. Ma se noi stessi non siamo in grado di renderci conto dei passaggi che vogliamo fare, che abbiamo bisogno di fare affinché questo vissuto rimanga in noi, è come un bagaglio che ci portiamo dietro perché ormai è acquisito. Se noi stessi non partiamo da questo, come vediamo ciò che accade attorno a noi? Che impressione abbiamo di chi non sta facendo un percorso spirituale o di chi pensa che siano tutte quante sciocchezze, questo dell'età dell'acquario o il solstizio? Quanto abbiamo la percezione che ognuno di noi si può trovare ad un livello di lavoro diverso e ognuno ha bisogno di vivere quelle esperienze? Perché lì, in questo momento storico così particolare, in quanto riusciamo a vedere in ogni cosa che sta accadendo fuori di noi una parte di noi che ci sarà la grande rivoluzione? Quanto siamo in grado di vedere che ogni cosa fuori ci sta parlando di noi? Anche la persona che ci sembra più lontana da queste esperienze, da questa ricerca, se ci dà fastidio, se in qualche modo ci crea un allontanarlo, un non volerlo esserci, vuol dire che ci sta ancora parlando di qualcosa che è dentro di noi. Ed è per questo che nell'umiltà più sincera ci tengo veramente a ritornare a sottolineare quanto noi, che pensiamo di essere già sul cammino, chissà già quanto abbiamo fatto eccetera, viviamo una dimensione di coscienza non condizionata dentro noi stessi. Quanto sappiamo che essere in contatto con quegli spazi intuitivi, con queste dimensioni di ascolto profondo sono veramente il passaggio evolutivo che la razza umana vuole fare. Partendo proprio da questo, da questa basic, ci rendiamo conto che se tutti sempre di più comprendessero questa necessità, inevitabilmente lo spazio della mente avrebbe meno forza, lo spazio delle emozioni verrebbe accolto diversamente, l'ascolto del corpo sarebbe diverso. E' per questo che oggi condividevo questa frase che mi sono avvicinata moltissimo all'energia cristica, diciamo, per modalità abbastanza particolari. Quello che ho compreso è che se veramente potessimo renderci conto ogni volta che abbiamo perso la nostra apertura, ogni volta che abbiamo perso un certo tipo di luce dentro, semplicemente di averla persa, cioè di non essere riusciti a guardare quella cosa con un filtro di bellezza, non essere riusciti a vedere lì quella bellezza, solo l'accorgercene. Non c'è necessità di giudizio, di sensi di colpa, questi non servono a nulla. Ma questa vigilanza, ecco, questa per me è rivoluzionaria, nel renderci conto che questa speranza di salvezza che cerchiamo fuori e poi inizia trovando questo regno dei cieli dentro. E quando non c'è, essere disponibili a stare con quello che c'è, perché è lì che qualcos'altro si apre. E quindi iniziare a chiederci cosa ci aspettiamo da questo periodo, cosa siamo disposti a dare. e iniziare a chiederci quanto veramente vogliamo aprirci ad altre dimensioni se la nostra percezione è di fiducia, se la nostra percezione è di amore. Qualche tempo fa ho sentito questa domanda che è stata molto interessante. Come sarebbe poter convivere con altri popoli senza farsi la guerra? E immediatamente ho detto, ma come può l'essere umano essere così attratto da andare in contatto con altre dimensioni, con altre forme, quando ancora è abituato a farsi la guerra qui, con quello che gli è accanto, con il vicino? C'è qualcosa che non quadra. Quindi iniziamo veramente a renderci conto di quanto siamo disposti a non farci la guerra, in primis con noi stessi, e poi con chi vediamo eventualmente meno evoluto. Allora sarà interessante renderci conto se come umanità siamo pronti ad incontrare altre saggezze e altri popoli. In questi giorni ci invito veramente tanto perché è quello che ci sta chiedendo questo periodo proprio a rallentare nel renderci conto dove stiamo disperdendo la nostra energia. È qualcosa che cerco in questi momenti, sapete ci sono amici da altri gruppi, di ribadire perché è veramente importante rendersi conto proprio adesso di dove stiamo disperdendo questa energia. È come se abbiamo l'opportunità di essere chiamati a fare dei click importanti, ad andare più velocemente dentro. Quindi adesso più che mai è importante vigilare su cosa ci porta in altre direzioni, su cosa ci allontana da questo ascolto. E lì ci vuole la forza, lì ci vuole il coraggio, lì ci vuole questo ancoraggio alla forza anche del sole, a questa parte proprio dell'energia maschile determinata a vedere cosa ci sta portando via. E lì entrare attraverso la nostra energia femminile di accoglienza, rendercene conto e ritornare qui a contatto con noi. Le cose più semplici vengono così screditate dalla mente che vuole tecniche, che vuole fuochi d'artificio, ma nella mia esperienza sono le più potenti. e le più durature nel tempo.